ciao a tutti e benvenuti a questo nuovo video tutorial oggi vi insegnerò a giocare a paris o paris come dir si voglia nuovo titolo del 2020 targato kramer kissling ormai una coppia mitica nel mondo dei giochi da tavolo un gioco per 24 giocatori della durata indicativa di circa 90 minuti a partita dipende molto dalla quantità di giocatori al tavolo diciamo che è una partita due giocatori si aggira sui 75 80 minuti forse un pochettino meno allora oggi vi farò vedere una partita per due giocatori cambierà molto poco in realtà cambia qualcosina sul setup la modalità di gioco è la stessa non cambia assolutamente nulla allora come vedete il materiale è spettacolare il tavolo è pieno zeppo di roba non fatevi spaventare perché in realtà il gioco è veramente semplice infatti noi all'interno del flusso di gioco avremmo a disposizione sole due azioni allora da dove iniziamo iniziamo dalla plancia giocatore la plancia giocatore è questa bellissima casa in stile parigi belle poc infatti l'ambientazione è proprio nei primi del novecento questa plancia giocatore serve per nascondere i propri soldi le proprie chiavi e tutto ciò che riguarda i giocatori quindi le materie prime o i segnalini prestigio il giocatore dovrà tenere tutto nascosto qua dietro un piccolo difetto è un pochettino buio quindi magari voi potete eventualmente spostare un pochettino tutta la costruzione il cartone spessissimo scusate da costruire veramente semplice perché gli incastri sono molto larghi e quindi siccome si è costretti a smontare ogni volta che si rimette nella scatola non c'è nessuna difficoltà nel costruire e smontare il tabellone è tutto componibile infatti questi sono tutti i pezzi separati che vengono uniti tra loro abbiamo la plancia centrale le sei plance dei quartieri di parigi e poi altre sei plancette che riguardano il tracciato segnapunti viene tutto costruito anche qui molto semplicemente e si va a creare questo bellissimo tabellone come potete vedere abbiamo anche l'arco di trionfo eccolo qua veramente uno spettacolo ha una funzione diciamolo subito prettamente estetica in realtà è possibile anche giocare senza l'arco di trionfo infatti la plancia centrale il pezzo centrale se lo giriamo al contrario ha esattamente riportato questo tipo di raffigurazione che andremo a vedere a che cosa serve poi per quanto guarda al setup abbiamo ancora tutte le tessere bonus che sono queste qua le tessere bonus andremo a vedere a che cosa si riferiscono eccole qua devono essere piazzate esattamente con il loro numero corrispondente quindi questa qui che è la tessera numero 1 andrà messa nel posto numero 1 questa qui che è la tessera numero 30 andrà messa nel posto numero 30 molto semplice qui c'è una piccola differenza sul setup 3 4 giocatori perché troverete delle tessere che sono così 3 più giocatori o 4 o solo 3 queste tessere vanno messe in aggiunta a quelle già presenti a formare una pila in quel caso lì poi si potrà scegliere una determinata tessera quando ci si ferma con la propria pedina ma adesso non ve lo dico ancora allora vediamo un attimo le pedine queste qui sono le pedine segnapunti classici tondini che andranno sul percorso esterno quindi quello dei punti di gioco poi abbiamo i bonus meeple le tessere scusate i segnalini bonus che andranno a viaggiare sul circuito più interno quindi quello delle tessere bonus poi qui abbiamo come vedete se tappate questi segnalini prestigio e i segnalini risorsa allora adesso io l'ho messi solo qua ma vanno messi esattamente nello stesso modo su tutti i sei distretti i quartieri abbiamo il segnalino di bronzo d'argento ed oro e abbiamo qua invece la risorsa legno la risorsa marmo e la risorsa oro vediamo adesso le tessere edificio che sono quelle che andranno piazzate qua all'interno dei quartieri di parigi i quartieri di parigi sono montmartre belville chalot saint germain la villette e bations ognuno di questi edifici è numerato come sul tabellone esattamente quindi da 1 a 8 ecco qua adesso andremo a vedere ogni edificio andrà piazzato esattamente nel suo quartiere di appartenenza e sul suo numero mancano ancora le tessere a trazione allora come potete vedere le tessere a trazione sono tessere che hanno un valore più alto quello che vedete in basso sulla destra il valore dell'edificio in questo caso il valore della attrazione sono molto alte ed rappresentano dei punti panoramici diciamo di tutta parigi sulla sinistra vedete tre icone quelle icone rappresentano i segnalini prestigio che andranno poi spesi per ottenere maggiori punti invece in alto sulla destra potete notare un meno con delle risorse questo sa significare che per acquisire quel determinato quella determinata attrazione non bisogna solo pagare il rispettivo valore ma aggiungere delle risorse richieste ma come si svolge un turno di gioco allora il turno di gioco prevede due semplici azioni e prima di esse un'azione obbligatoria che dovranno compiere tutti i giocatori l'azione obbligatoria è la pesca di una tessera edificio quindi si creano come setup iniziale due mazzetti distinti ovviamente ben mescolati di edifici e dal totale se ne tolgono tre ogni volta per creare variabilità al gioco quindi si pesca una tessera e semplicemente la si va a posizionare guardando il quartiere di appartenenza e il numero come detto quindi io prendo il 4 di bation e lo piazzo qua è un'azione che non mi permette di acquisire nulla né di fare nulla è solo un posizionamento quindi facciamo finta adesso che io vi vado a riempire ecco qua così vedete due qua per semplicità vi ho messo tutte le tessere di questo quartiere così lo vedete completo ok questo è un ipotetico quartiere completo ovviamente non si pescherà solo su un quartiere ma a casaccio si pescherà un po ovunque è possibile ovviamente solo riuscire a vedere le prime due tessere quindi vedere il quartiere di appartenenza e quindi la fortuna della pesca viene un pochettino e attenuata dal fatto che potete decidere anche se solo per due quartieri dove poter piazzare il vostro edificio ovviamente non sapendo all'inizio quale numero uscirà fuori dopo che avete estratto un edificio lo piazzate e scegliete una delle due azioni quali sono le due azioni ed ecco che entrano in gioco le bellissime chiavi di paris eccole qua queste chiavi sono le chiavi che permetteranno di acquisire gli edifici della parigi nel novecento come funziona allora voi nel vostro turno dovrete decidere di piazzare una chiave dove o in una banca di un quartiere o sulla sul d'arco di trionfo allora se noi piazziamo una chiave qua noi guadagniamo subito sei franchi sei soldi vi ricordo che ognuno inizia con tre franchi e stop l'azione è stata posizionare la chiave cosa significa posizionare la chiave in un quartiere significa che io dopo potrò decidere se posizionare altre chiavi o prendere la chiave ed acquisire un edificio questo è possibile anche se io vado a piazzare una chiave sull'arco di trionfo l'arco di trionfo non mi fa guadagnare soldi quello che indica lo zero qua sotto ma mi permette di piazzare poi la chiave su uno dei qualsiasi quartieri con edifici presenti quindi ripeto piazzare una chiave sul quartiere vincola la chiave a quel quartiere ma fa guadagnare soldi la chiave piazzata sull'arco di trionfo non fa guadagnare soldi ma permette di piazzare la chiave su qualsiasi edificio sul tabellone quindi noi decidiamo o di piazzare una chiave oppure di acquisire un edificio come se acquisisce un edificio pagando l'edificio di valore 1 costerà un franco 2 3 4 e così via quindi io decido di facciamo così decido di acquisire l'edificio numero 1 quando io vado a acquisire un edificio per la prima volta riscuoto quello che c'è di fianco quindi in questo caso io riscuoto un segnalino prestigio di bronzo se avessi comprato quello di 5 avrei acquisito una risorsa di marmo allora io poggio la mia chiave sopra l'edificio vado a pagare l'edificio è mio l'edificio 1 il 2 e il 3 hanno una particolarità vedete qua in alto sulla in alto sulla sinistra c'è la figura della tessera bonus con un punto interrogativo quando io acquisisco quindi una tessera un edificio 1 posso prendere il mio meeple bonus e farlo avanzare sul tracciato bonus non esiste un numero l'uno non indica l'avanzamento del meeple ma io posso avanzare di quante caselle voglio non ho nessun obbligo potrei già arrivare subito all'ultima come funziona però funziona che io non posso più tornare indietro quindi se io prendo questo e decido di acquisire la tessera bonus che mi dà 4 franchi quindi io prendo il mio meeple e lo metto qua acquisisco la tessera quindi questa tessera non mi fa scambiare soldi ma la tessera ha un valore di 4 quindi la utilizzerò quando dovrò spendere avrò necessità di spendere 4 franchi me la tengo ovviamente nascosta dietro la mia plancia potrò usarla ora ogni turno in successivi senza nessun obbligo successivamente io potrò anzi sicuramente riacquisterò un edificio da uno o da due ma non potrò più tornare indietro quindi potrò solamente avanzare con il mio meeple bonus l'uno e il due danno la possibilità di muovere appunto il meeple sul tracciato bonus ma anche la tessera numero 3 solo che la tessera numero 3 vi è obbliga se volete a pagare due franchi per poter muovere il vostro meeple bonus acquisendo la 4 o la 5 otterrete ovviamente come come visto due risorse legno e marmo per quanto riguarda invece l'edificio di valore 8 vedete in alto a destra necessita di un legno quindi per comprare un 8 non basta pagare il suo valore ma bisogna necessariamente spendere un legno però la tessera numero 8 vi regala anche due punti immediati che farete avanzare con il vostro segnalino rotondo quando voi acquistate un edificio e volete acquistare un altro più caro dovete solamente pagare la differenza esempio io sono qui acquisto l'edificio da uno voglio comprare quello da tre farò così mi prenderò ovviamente il mio segnalino prestigio dorato ma pagherò solamente la differenza quindi pagherò in questo caso solamente due se vorrò acquistare l'edificio da 8 dovrò pagare una differenza di 5 franchi più ovviamente aggiungere il legno che necessita l'edificio numero 8 come avete visto prima ci sono le tessere a trazione le tessere a trazione possono essere comprate e messe adesso per comodità uno può metterle qua nel proprio nel quartiere in cui è presente una vostra chiave quindi facciamo finta che io voglio passare dalla tessera 2 alla tessera 9 mi prenderò tranquillamente la tessera a trazione la metterò qua e andrò a piazzargli la chiave sopra pagando che cosa la differenza di 7 e più la roccia richiesta in atto sulla destra questi questa parte sinistra con le tre sezioni da tre punti ciascuna indica che se io nel momento in cui vado a comprare la tessera a trazione spendo i segnalini prestigio raffigurati appunto sulla tessera a trazione otterrò immediatamente i punti raffigurati sulla tessera stessa non sono obbligato né a spenderli tutti né a spenderne uno né a spenderne nessuno è un modo per ottenere punti aggiuntivi quindi possono libero di spenderne uno due o tre o nessuno la regola per piazzare le tessere a trazione sui quartieri e che se non è presente nessun nessuna tessera a trazione io posso scegliere qualsiasi di quelle presenti e metterla lì posso anche subito mettere la numero 16 ma se è presente una tessera a trazione su un quartiere noi siamo obbligati a metterle a metterne sempre una di valore maggiore quindi se io piazzo la 16 che è la più alta saprò assolutamente che nessuno potrà superarmi da quel punto di vista se io invece metto una tessera magari numero 12 saprò che se disponibili i miei avversari potranno piazzare solamente quelle superiori fino alla 16 mettendo la 9 ovviamente tutte le altre tessere sono piazzabili in quel quartiere stesso come dicevo prima mettere una chiave sull'arco di trionfo permette di acquistare qualsiasi edificio sul tabellone quindi nel momento in cui io posso fare la mia azione posso decidere di fare una cosa del genere non possono essere presenti due chiavi contemporaneamente sullo stesso edificio una volta che un edificio è stato acquisito per la prima volta e la tesserina bonus viene tolta quell'edificio non produrrà più tessere bonus quindi se qualcun altro ci andrà sopra non potrà ricavarne nulla in più ci sono delle tessere bonus ovviamente tra tutte quelle che non vi sto elencare perché sono tantissime sono 30 che danno abilità particolari come ad esempio poter piazzare una chiave sullo stesso edificio già occupato da un avversario o da se stessi poi ci sono bonus che danno risorse bonus che vi permettono di prendere una chiave in più ad esempio due giocatori il setup vi dice che ogni giocatore inizia con 10 chiavi e le rimanente due vengono messe a disposizione possono essere comprate appunto con questa tessera bonus qua questa qui vi dice che pagando due franchi potete prendere una chiave aggiuntiva e poi l'altra è da uno sono tutte tessere che danno bonus immediati quindi ad esempio questa qui potete ricordo giocarla quando volete vi dà due punti per ogni edificio di valore uno occupato quindi quando voi prendete una tessera del genere non è consigliabile o comunque giocarla subito ma conviene giocarla quando avete una buona quantità di edifici uno occupati questo vale per i due per i tre per i quattro fino alle tessere a trazione l'unica tessera bonus che va considerata a fine partita è la numero 27 che dà un punto vittoria per ogni franco avanzato tutte le altre ripeto sono da utilizzare durante la partita stessa quindi ripeto le azioni sono pescare un edificio e piazzarlo e poi decidere se piazzare una chiave sull'arco di trionfo o su una banca oppure spostare quella chiave per acquisire altri edifici arriverà un momento in cui tutte le tessere edificio saranno esaurite e non potrete più pescare nulla da quel punto in poi entrano in gioco le tessere punteggio queste tessere rappresentano un'azione in più durante il proprio turno quindi d'ora in poi non potendo più pescare tessere edificio in quanto esaurite potete decidere di mettere una chiave acquisire un edificio con una chiave oppure scegliere una di queste tessere le tessere vanno tenute sempre coperte un giocatore prenderà tutto il mazzetto e andrà a scegliersi quella che le serve di più quindi ci sono punti a disposizione segnalini di punteggio risorse e soldi e quant'altro quindi si prende la tessera se la tiene nascosta dietro la sua plancia e si passa al turno di gioco così fino a quando non sono esaurite le tessere quando le tessere saranno esaurite si partirà con l'ultimo turno di gioco finita la partita si andranno a calcolare i punteggi di fine partita i punteggi sono solamente due perché tutti gli altri punti sono stati ottenuti durante la partita ora bisogna andare a vedere se qualcuno come detto possiede la tessera 27 per calcolare i punti grazie ai franchi conservati oppure si andranno a calcolare i punti queste qua sono le tessere punteggio le tessere punteggio servono a regalare punti a fine partita per i quartieri sul tabellone ma come funzionano quando un quartiere arriva ad avere quattro chiavi su di esso che siano sulla banca o che siano sugli edifici in totale il giocatore di turno è tenuto a scegliere subito una delle tessere punteggio e piazzarla qua sopra quindi facciamo finta che io decido di mettere la tessera quella del valore più alto 20 10 5 su questo quartiere qua questo quartiere qui ha attivato il suo conteggio di fine partita vuol dire che quando tutti i giochi sono finiti andremo a calcolare chi avrà posseduto il maggior valore di edifici nel quartiere quindi se noi posizioniamo il bianco sul 9 il rosso sull'otto e il bianco sul 3 e questa qui rossa ancora a fine partita il bianco possiede edifici per pari a un valore di 12 franchi mentre il rosso possiede un edificio pari a un valore di 8 franchi quindi il bianco otterrà il primo punteggio quindi otterrà i 20 punti il secondo classificato otterrà 10 punti ma non è sempre così perché c'è un vincolo il secondo classificato in questo tipo di calcolo deve avere almeno metà dei punti del primo classificato quindi in questo caso il bianco ha 12 punti il rosso ne ha 8 rientra nella metà e quindi prende i 10 punti se il rosso avesse avuto solamente due punti e una chiave lì che non portava nulla avrebbe avuto meno della metà perché in questo caso sarebbe finito 12 a 2 quindi in questa situazione l'unico che prende i punti da questo quartiere è il bianco che ne prende 20 mentre il secondo non riuscirà a prendere i 10 punti perché sotto la metà del primo giocatore classificato nel quartiere quindi ai punti già ottenuti durante la partita si sommano tutti i punti ottenuti dalla tessera punteggio eventualmente quello dalla tessera 27 colui che avrà fatto più punti sarà l'investitore immobiliare più famoso e facoltoso della parigi della belle epoque e con questo il mio tutorial di paris è terminato io vi ringrazio per avermi seguito se vi è piaciuto il video vi invito a mettere un piccolo like vi invito a iscrivervi al mio canale e a cliccare sulla campanellina per non perdere le prossime novità spero che vi sia stato utile ad imparare questo gioco ripeto l'ultima opera 2020 del fantastico duo kramer kissling ci vediamo al prossimo video un altro tutorial o una delle partite su ballgame arena se avete particolari richieste domanda mi raccomando scrivetele nei commenti io vi risponderò appena possibile un saluto a tutti ciao 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 ciao